Quello che ha detto, ma quello che voglio sottolineare è che quando siamo arrivati qui, a luglio del 2013, abbiamo convocato tutto il modo dell'associazionismo, ma si è presentato tantissimo, un po' come era, non so se ricorda anche lei, la segretaria, c'era nella stanza del sindaco, c'era una notevole partecipazione di persone che però in conflitto spesso fra loro, più che di collaborativo, di vicinanza, c'era proprio questa divisione, abbiamo detto ma è possibile che non si riesce a raccogliere attorno a un tavolo quelle associazioni che effettivamente possono essere utili alla città, che danno anche un contributo anche morale insomma di ciò che serve anche per un cammino verso la legalità, verso il recupero delle persone che hanno, che sono in disagio sociale, che hanno problemi di povertà e quindi pur senza risorse, perché non gestiscono risorse finanziarie, anche se certamente il Comune può non sentire indietro, se ci sarà qualcosa da poter dare, insomma poter supportare, però l'importante è di creare questa struttura. Grazie. Grazie. Grazie.